Ho bisogno di te. Di me? Adriona Gresta, ecco il Miraculous del Serpente. Ti darà il potere della seconda occasione. Lo userai per il bene superiore. Una volta sconfitto il super cattivo, mi restituirai il Miraculous. Posso amarti? Posso affidarmi? Certo, Ladybug. Fantastico! Saluti, il mio nome è Sass e sarò il tuo Kwame. Ma che cosa devo fare? L'unica cosa che dovrai fare è dire Sass, squame striscianti. Sass, squame striscianti! Il gatto vi ha mangiato la lingua? Lasciate un messaggio. Gatto, ho trovato Drion. Cerchiamo Desperada. Vediamoci sotto alla piazza del Trocadero subito. Spero di non deluderti, Ladybug. So che non lo farai. Sei perfetto. È perfettamente capace di sconfiggere Desperada. Abbiamo bisogno che la fortuna sia a nostro favore. Desperada è un avversario temibile. Lucky Charm! Avrei preferito un ferro di cavallo per la mia prima missione. Adoro il tuo senso dell'umorismo. Ah, davvero? Grazie! Se qualcosa non andasse, la seconda occasione ti farà tornare indietro nel tempo, nel momento in cui l'hai attivata. Ricevuto. Seconda occasione! Adesso abbiamo cinque minuti. In questo arco di tempo puoi tornare indietro tutte le volte che vuoi. Dopodiché, quando la testa del serpente tornerà al suo posto, ti ritrasformerai. Niente, Charm Noir. Ora che ci penso, non abbiamo bisogno di lui. Adesso che abbiamo il tuo potere, tu e io saremo una squadra fantastica. Lei dov'è? Nessuno può sfuggirmi da qui. Molto bene, Vivica. Quando avrai catturato Chanoare, non avrai più bisogno dei tuoi poteri. Questi adesivi libereranno gli eroi e i loro miracoli saranno miei. Una squadra fantastica, certo! Dammi un po' di tempo. Adesso abbiamo cinque minuti. Prima che io mi ritrasformi, lo so. Non ce l'abbiamo fatta? No, ma ho usato la seconda occasione. Non possiamo aspettare, Charm Noir. Ce la caveremo lo stesso. Vedrai, tu e io saremo una squadra fantastica. Aspik e Ladybug. Aspik? Wow! Sei appena diventato un supereroe e sembra già che tu sia un esperto. Quindi hai fatto la scelta giusta. Lei dov'è? No, aspetta! La prima volta il colpo di Desperada veniva da lì. Vieni. Come ringraziamento per avermi scelto. Oh! Grazie. Una squadra fantastica, certo! Dammi un po' di tempo. Per fare cosa? Conquistare Ladybug o sconfiggere il cattivo? Adesso abbiamo cinque... Ah! Fidati di me, ci siamo già passati. Non dovremmo aspettare, Charm Noir. Non serve. Proviamo un'altra uscita stavolta. Pierton, hai già salvato la vita più di una volta. Sapevo che... Saremmo stati una squadra fantastica? Spero che tu abbia ragione. Sa anche leggermi nel pensiero. Sembra sicuro qui. Adrian, volevo dire... Snake... Chiamami Aspic. Aspic, sei davvero un super... Una squadra fantastica! Lo so! Non di nuovo! No, 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 no! Sai, Ladybug, in realtà io sono anche Charm Noir e sono innamorato di te sin dal nostro primo incontro. Adesso abbiamo cinque minuti. In questo arco di tempo puoi tornare indietro nel tempo tutte le volte che vuoi. Sass, ritrasformami! Ma... Non ha funzionato. Mi dispiace. Non ero la scelta giusta per te, dopo tutto. L'unica cosa che dovrai fare è dire Sass, squame striscianti! Sass, squame striscianti! Sass, squame striscianti! Giusto in tempo, Charm Noir, vorrei presentati... Viperion, non vedo l'ora di lavorare con te. Avresti preferito un ferro di cavallo per la tua prima missione? Ah, gatto! Non ne ho bisogno, Ladybug ha abbastanza fortuna per tutti. Grazie! Desperata, è in cima alla Torre Eiffel. Portiamole via la sua posizione di vantaggio. Avremo bisogno del cataclisma. La squadra è persa, senza di lui. Al tuo servizio, Milady! Qui! Cataclisma! Che cosa vuoi? Le sue armi vengono dalla custodia della chitarra. Dobbiamo impedirle di usarle e poi distruggere la custodia. Pronti? Seconda occasione! Aspettate! Questa volta so che cosa fare. Consentiamo di parlarti delle imprese che una creatura magica come Meg ti aiuterà a realizzare. Non appena saranno pronunciate le parole magiche Ladybug spera che sconfiggerai Carigosen con stile Sfruttando uno dei seguenti elementi Il vento, l'acqua o il fulmine Ma per prima cosa lascia che ti illustri il suo piano Long, scatena la tempesta Aspetta, non ancora! Dragone del vento! Visto, madre Posso essere inafferrabile come il vento Grazie per il Miraculous, Ladybug Piacere di conoscerti, Chat Noir Io sono Ryuko Che stai facendo? Non era questo il piano? Quale piano? I cari Cosen Ladybug ha aiutato tua figlia a fuggire Consegnandole un Miraculous Non so come abbia fatto Ma voglio anche il suo Miraculous Gadami, mi hai disobbedita ancora una volta E lo hai fatto con la complicità di questi cosiddetti eroi Vi giuro che la pagherete tutti Ryuko, il piano! Sicuramente Long ti avrà parlato del piano No, resta qui con Chat Noir È una questione personale tra madre e figlia Iiiiha! Attenta! Cataclisma! Che mossa magistrale, cari Cosen Tra pochissimi minuti Chat Noir si ritrasformerà E il suo Miraculous sarà mio! Ho agito in modo avventato Ho fallito Non sono degna di combattere al tuo fianco Hai commesso un errore Come capita a me ogni giorno Ma non è un motivo per arrendersi Tu sei l'unica che può aiutarmi È per questo che ho scelto te Ma dobbiamo lavorare come una squadra Non ci resta molto tempo Il piano è questo Sbrigatevi prima che mi ritrasformi, ragazze! Avevi ragione, madre Ho ancora tanto da imparare Adesso sì che cominci a ragionare Questo è positivo Trattieni il respiro Mira al bocchetto Oh, sei una che impara in fretta Ho degli ottimi insegnanti Dragone dell'acqua! Wow Oh! Niente più malefatti, mia piccola Atuma Ladybug, sconfiggio il male! Presa! Ciao, ciao, farfallina! Miraculous Ladybug! Che cosa vi succede? Dov'è mia figlia? È qui vicino, signora Arriverà presto Ben fatto! È così che TimeTagger mi manderà nell'antico Egitto E mi imprigionerà in una pietra? Aspetta, noi come faremo senza il Miraculous del coniglio? Avete l'orologio? Il mio orologio? Sì, il mio orologio, il nostro orologio Quindi anche questo è un Miraculous? Un Miraculous mimetizzato Fluff, in senso anti-orario Ma tu sei... Ciao, Mini-Me! Hai capito? Adesso tu sei me e io sono te O più precisamente io sono te quando crescerai Wow! Non riesco a credere a quanto sarò bella quando crescerò Ma aspetta, questo non ha senso Io non ti ho mai dato... Cioè, a lei Cioè, non ho mai dato a nessuna delle due un Miraculous Non ce li hai ancora dati, Mini-Bug Perché non hai ancora capito quanto sono fenomenale Ma tranquilla, lo farai Un giorno Anch'io avrò un Miraculous che è forza! Fluff, ecco la merenda Devi ricaricare le batterie Cos'è? La colazione o la cena? A che la sarà ieri? È già domani? Quando sarà il giorno dopo domani? Sarà di nuovo ieri? Quel Miraculous sembra potentissimo Perché non lo usiamo più spesso? Perché viaggiare nel tempo è molto pericoloso Interferire con gli eventi ha conseguenze molto serie Ops, anche il mio qua mi ha fame Non capisco Se vieni dal futuro, devi sapere come andrà a finire La tua versione più giovane l'ho visto con i suoi occhi Significa che tu sai come sconfiggere TimeTagger In verità ho trascorso così tanto tempo in quella pietra che me lo ricordo appena Ma credo che la cosa più logica da fare sia rimandare TimeTagger nel futuro Così che possa essere sconfitto da eroi della sua stessa taglia Me ne occupo io Fantastico! Ma ora che ci penso meglio La Minimea era lì quando ho sconfitto TimeTagger E se la memoria non mi tradisce ha giocato un ruolo fondamentale Bene! Non volevo restarmene in panchina questa volta Fluff, incenso orario! Ragazze, venite un attimo a dare un'occhiata TimeTagger ha mandato già Gaston nel passato! Nadia Shamak Andrei il gelataio Il sindaco Bourgeois sta distruggendo il nostro presente riscrivendo il passato Bannix, visto che la me del futuro non ha impedito a TimeTagger di venire qui Forse non sono poi così potente! Stai scherzando, tu sei, sarai una fantastica leader, il più grande supereroe della storia E perché TimeTagger è qui allora? Te l'ho già detto Se Chat Noir non avesse gettato il suo cataclisma sul mio Miraculous non sarebbe qui Nel futuro sconfiggerai il Dottor Tristezza, gli invasori Upclipt, lacrime e dolore, le regine della dimensione oscura ignobili alla sorella cattiva di Majestia Quindi credimi, non farti intimidire da TimeTagger Ah, dimenticavo, il signor Ratto Il signor Ratto? Tu potrai sempre contare sul Ladybug Quando c'è lei, ogni problema ha una soluzione Come farò a diventare così? Solo crescendo, Minibug Ma dimmi, Bannix, nel futuro Ladybug e io... Chat Noir! Tu e lei sarete sempre più... Ehi! Il futuro non è scolpito nella pietra Forza, andiamo! Ci abbiamo messo troppo È riuscito a metterci in una ragnatela del tempo Siamo circondati solo da lui Cioè, può attaccarci da qualsiasi parte Io direi più da ogni era Datemi Miraculous, non fatevi pregare E voi non li sapete neanche utilizzare E quando Papillon li consegnerò Ladybug e Chat Noir non più vedrò Non ti muovere Ci penso io a lui Lo rispedirò nel futuro Così nel frattempo eviterò che vi succeda qualcosa Ma prima... Tu resta qui, va bene? Esattamente come era nei miei ricordi E adesso... Ta-ra! Che... Mancato! Non ha bisogno di ritrasformarsi per riacquistare i suoi poteri No, perché lei è adulta Fantastico, non vedo l'ora di crescere Non siamo ancora pronti per questa missione, Chat Noir Tu sei così debole e non concludi niente E da adesso in poi tienilo a me Sono a un passo dalla vittoria Sono stato proprio un genio a inviarmi un alleato così potente dal futuro Dov'è finita la tua arroganza? Coda di peli... Posso restare a guardare, basta! Cataclisma! Sono a... Visto, nel futuro è esattamente così che hai rovinato il mio Miraculous Lo sapevo! Sapevo che l'avresti fatto Chi è il migliore adesso? Questo è... Questo è impossibile! Grazie del vostro aiuto, miei giovani amici Ma adesso Bunnix se ne torna a casa Ciao, Bunnix! Bunnix! Minibug, oggi è accaduto qualcosa che ha provocato una catastrofe nel futuro Ma non so di che si tratti né quando sia accaduto Hai notato niente di insolito? Pensa, Minibug, pensa! No! Nel mio rifugio, ora! Wow, è più grande all'interno! E questo a che serve? Vuoi sapere i regali che riceverai in futuro? No, certo che no! Allora tienilo E tu? Sai già i regali che riceverai? Ne conosco solo alcuni Di solito dobbiamo evitare il più possibile di interferire con il passato e il presente Ma qui la situazione è davvero seria Il nostro futuro è in pericolo Mi serve il tuo aiuto Che è successo qui? Meno sai del futuro, meglio è Tu fai quello che sai fare Cattura la fuma e riporta l'ordine E a quel punto il treno ritornerà sui binari Oh, una simietta di pelusci volanti! Io non sono un peluscio, mi chiamo Xuppu, Zuccone Io non mi chiamo Zuccone, mi chiamo Kim Mi domando se questa sia stata una mossa astuta Forza, devi solo dire trasformami! Xuppu, trasformami! Ottimo lavoro, questa feste Ora devi solo consegnarmi i Miraculous Balliamo! Ehi, aspetta un attimo! Anche a Monkey King piace divertirci Confusione! Confusione! Mangia questa! Cos'è? Uno scherzo? Ma che succede? Scusa, mi piace confondere usando altri poteri Carapace, proteggici! E... scudo! Pegasus, teletrasportati qui e trova come sentire questa! Mi scusi, glielo ridarò appena Parigi sarà salva L'unica soluzione è essere imprevedibili Così non riuscirà a capire i nostri passi Quindi... scateniamoci! Che state facendo? È assurdo! Che state facendo? È assurdo! Che state facendo? È assurdo! Che state fa però? È assurdo! Che state facendo? Che state facendo? È assurdo sia anche la sua Oh, è assurdo sia il suo Grazie per la visione!